Benvenuti, sono Giorgio Foschini, responsabile tecnico commerciale Antica Signoria Art & Style. Oggi vi presentiamo stili di vertigo ottoman, una finitura decorativa materica per interne ed esterni completamente rinnovata e reinventata per rispondere alle ultime tendenze del design. Elementi geometrici dalla trama a mille righe caratterizzano lo stile ottoman. Ottoman si esprime bene nelle cormie satore, ove il colore pieno ne evidenzia il disegno, creando un effetto 3D di grande impatto visivo. Su superfici nuove, accertarsi che il supporto sia ben stagionato ed applicare una mano di primer uniformante. Su superfici già pitturate, se necessario, ripristinare con rasanti ed applicare una mano di primer uniformante. Dopo circa 6-8 ore, dall'utilizzo del primer uniformante, applicare una mano di fondo AS a pennello o rullo. L'applicazione del vertigo stile ottoman e delle finiture sicfine o sicmat vengono realizzate con l'ausilio dei seguenti attrezzi carta gommata, pettine mille righe, spatola dentata, frattazzo inos, rullo perlo in riga gialla, pugna mezzaluna. Creare sulla parete con la carta gommata una serie di rettangoli e successivamente applicare una mano di vertigo in modo uniforme con il frattazzo inos. E a prodotto ancora bagnato, realizzare il disegno con il pettine mille righe o la spatola dentata, seguendo movimenti verticali e orizzontali sfalsati. Attendere almeno 45 minuti. Prima che il prodotto si asciughi completamente, si andrà a rifinire con frattazzo inos, leggermente inumidito e sempre pulito. A completa essiccazione del vertigo, applicare una mano di sicfine o sicmat, in relazione alla finitura richiesta e del colore scelto, mediante rullo perlo in giallo. Utilizzando la spugna mezzaluna, a prodotto ancora bagnato, nella stesso senso delle trame, si andrà ad omogenizzare ed accentuare la finitura. Vertigo è colorabile con il sistema tintometrico S2K Speed II. Il vertigo base bianca è realizzabile in centinaia di tinte, dalle più tenui alle più energiche, consentendo così di decorare con stile e personalità i vari ambienti. Il risultato della finitura ottoman è una trama raffinata e di carattere, dinamica nella struttura e attuale nello stile. Vertigo ottoman è una finitura decorativa materica per interni ed esterni, completamente rinnovata e reinventata, per rispondere alle ultime tendenze del design. Stili di vertigo. Ricerca e innovazione si uniscono al gusto estetico contemporaneo, dando vita a soluzioni materiche, moderne e versatili. Stili di vertigo. Crea il tuo stile di vita. Arrivederci al prossimo tutorial.